In questo breve video tutorial vediamo come utilizzare un'applicazione presente in internet completamente gratuita che ci permette di simulare gli esperimenti di Morgan sulla drosofila forse l'argomento più ostico del programma di genetica del terzo anno dei licei quindi questo programma si chiama FlyLab, è quindi un laboratorio virtuale di genetica il link all'applicazione è questo qui comunque ve lo metto nella pagina di presentazione del video su YouTube diamo ora un'occhiata all'ambiente di lavoro del nostro laboratorio virtuale abbiamo una colonna sinistra, un menu superiore, è orizzontale e una parte centrale vediamo che cosa c'è nella colonna sinistra nella colonna sinistra possiamo scegliere tutta una serie di caratteri tra quelli più famosi studiati all'inizio del novecento da Morgan per la nostra drosofila prima di tutto possiamo scegliere il sesso del nostro moscerino di quello che vogliamo ingegnerizzare che sia femmina o maschio ricordiamo che femmina e maschio di drosofila si riconoscono molto facilmente il maschio è più piccolo e all'addome più scuro e più corto quindi posso scegliere se cominciare a modellare la mia femmina oppure se cominciare a modellare il mio maschio di default lui mi dà tutti i caratteri wild type poi posso scegliere diversi caratteri quindi le setole partendo da wild type e tutte le mutazioni più comuni le antenne, quindi wild type o aristapedia poi il colore degli occhi io partirei sempre da questo perché questo è l'esempio che sta sul libro quindi il nostro rosso brillante wild type è il bianco la forma degli occhi la grandezza delle ali quindi abbiamo il wild type, le ali piccole, vestigiali o attero la forma delle ali la venatura delle ali l'angolo di aggancio delle ali e il colore del corpo con moltissimi fenotipi diversi quindi ricapitolando dalla colonna sinistra io posso modellare i miei due moscerini che vorrò fare accoppiare posso utilizzare un carattere alla volta oppure posso utilizzare due caratteri, tre caratteri eccetera eccetera il mio consiglio è sempre partire da un carattere alla volta e capire come venga distribuito qual è il suo meccanismo di trasmissione nella barra superiore invece abbiamo un menu orizzontale che determina le azioni che noi possiamo fare quindi design, mate, crosses, analyze e lab notes quindi partiamo dal design progettare la nostra drosofila quindi scegliamo prima la femmina scegliamo di ripercorrere per semplicità l'esperimento che è sempre presente nei blitzesto di Morgan quindi andiamo direttamente al colore degli occhi e scegliamo una nostra femmina selvatica quindi wild type con occhi rossi la selezioniamo per l'accoppiamento in quest'altra voce, mate, dobbiamo scegliere adesso l'altro partner e possiamo ritornare al menu design per scegliere invece come fare il maschio abbiamo detto ripercorriamo l'esperimento di Morgan quindi scegliamo il maschio con occhi bianchi una volta che ho completato quindi il mate quindi ho scelto i miei due partner da accoppiare posso andare alla terza voce del menu orizzontale e cominciare a effettuare gli incroci partendo da parentali poi F1, F2 non c'è il limite posso arrivare anche a F12 ma comunque ovviamente non è necessario quindi facciamo il design del maschio abbiamo detto occhi bianchi ok, adesso quindi posso farli accoppiare e posso cominciare a vedere gli incroci quindi ho qui i miei parents quindi la mia generazione parentale quindi femmina selvatica occhi rossi e maschio mutante occhi bianchi li ho fatti accoppiare qui abbiamo il numero 1 N uguale 1 ci dà il numero di individui della generazione qui ovviamente è 1 e 1 perché sono i due genitori e ottengo 478 femmine e 507 maschi ovviamente tutti con gli occhi rossi perché il carattere occhi rossi è dominante posso continuare è inutile analizzare questi dati quindi posso continuare e posso semplicemente da questa schermata scegliere di far accoppiare gli individui della F1 quindi il mio maschio occhi rossi della mia femmina occhi rossi della F1 e c'è scritto qui offspring across 1 quindi individui della generazione 1 e ottengo il risultato che aveva sorpreso Morgan in effetti abbiamo quindi 499 femmine con occhi rossi e 250 femmine maschi con occhi rossi e 259 maschi con occhi bianchi questo ci permette quindi di ripetere di ripercorrere proprio l'esperimento di Morgan e qui è interessante la terza voce quindi cliccando su analyze posso estrapolare le tabelle dei dati e analizzare i risultati eventualmente si può addirittura sottoporre l'esperimento la nostra ipotesi al test del chi quadro ma io queste cose non le faccio al liceo linguistico se qualcuno per la sala o scientifico ha più ore può anche introdurre il test del chi quadro quindi clicco su analyze e mi viene restituta una tabella qui c'è una voce molto interessante posso ignorare il sesso delle mosche e quindi avere soltanto la tabella dei fenotipi da questa tabella dei fenotipi senza neanche fare il test del chi quadro si vede che abbiamo un rapporto 3 a 1 praticamente una proporzione 3 a 1 perfetta come effettivamente ci si aspetterebbe dalla prima legge di Mender però se noi consideriamo invece il sesso dei moscerini vediamo che i maschi sono soltanto gli occhi bianchi e come appunto questo era stato il campanello che aveva spinto Morgan a immaginare un'eredità legata ai cromosomi sessuali per quanto riguarda l'atrosofia quindi posso analizzarla in questo modo posso ve lo metto il test del chi quadro dimettiamo questi sono circa 1000 quindi io me ne aspetterei 756 con occhi rossi e 252 con occhi bianchi automaticamente uno mi calco il test del chi quadro con il livello di significanza eccetera eccetera quindi questo ci permette di fare un'analisi statistica se qualcuno introduce il test del chi quadro nella diciamo nella didattica posso non perdere i dati mettendoli utilizzando l'ultima voce quindi le note di laboratorio ecco posso aggiungere il risultato a le note di laboratorio qui posso aggiungere il mio commento questa può essere esportata come pagina web che ha una sua scadenza ma comunque me la posso stampare e posso magari consegnarla o come immagine oppure come stampato in un eventuale compito di simulazione degli esperimenti di Morgan potrei poi chiedere agli alunni resettare tutto potrei chiedere agli alunni di vedere un altro di queste mutazioni per il coro degli occhi e vedere se queste mutazioni sono anch'esse sul cromosoma X perché il coro degli occhi diciamo è un carattere multifattoriale molto complesso quindi potrei prendere sempre partiremo sempre da una femmina wall type e facciamo un maschio in questo caso con gli occhi marroni facciamo il nostro accoppiamento prima generazione nessun problema il rosso è dominante sul marrone faccio incrociare gli F1 e ottengo il risultato del genere questo risultato è diverso dal precedente perché in questo caso abbiamo femmine 348 femmine con gli occhi rossi ma abbiamo anche 327 femmine con gli occhi marroni 381 maschi con gli occhi rossi e 126 maschi con gli occhi marroni se vado ad analizzare e vedo la tabella ignoro il sesso dei moscerini e trovo che comunque il rapporto è sempre 3 a 1 ma è un rapporto 3 a 1 anche se considero le femmine e i maschi perché abbiamo 3 a 1 per le femmine occhi rossi occhi marroni 3 a 1 per i maschi occhi rossi occhi marroni e quindi posso includere un'ipotesi che questo il carattere la mutazione occhio marrone non è legata al cromosoma X in quanto non presenta differenza di trasmissione tra maschi e femmine e poi posso esportare la mia nota di laboratorio e confrontarla con la precedente e poi quindi posso chiedere all'alunno di effettuare tutta una serie di incroci di questo tipo e poi far capire a lui stesso attraverso l'analisi del numero dei moscerini qual è il pattern di trasmissione di un determinato carattere genetico questo lo posso fare quindi con un'infinità di caratteri quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diversi caratteri e posso farlo se poi magari in successivi esperimenti considerando due geni quindi resettiamo tutto proviamo a considerare due geni insieme quindi prendiamo il colore degli occhi e il colore del corpo io prenderei questo qui yellow perché già l'ho provato quindi facciamo una mosca femmina come sempre partiamo da una mosca femmina selvatica e facciamo un maschio con colore degli occhi bianco e con colore del corpo giallo faccio l'accoppiamento ho ovviamente ancora una volta la F1 tutta di individui selvatici in quanto il colore degli occhi rosso è dominante sul bianco e ho scoperto adesso che il colore del corpo normale è dominante sul giallo qui c'ho il più che mi indica sempre ricordiamo il fenotiposelvatico e qui invece ho le mutazioni quindi white per l'occhio e yellow per il colore del corpo se ci lascio sopra il mouse comunque me lo spiega in dettaglio faccio accoppiare gli individui dell'F2 dell'F1 e ottengo una F2 interessante perché ottengo delle femmine tutte con occhi rossi la maggior parte 519 la maggior parte dei maschi è tutta con occhi rossi e con corpo selvatico ma ottengo anche fenotipi ricombinanti e questi tutti per i maschi perché entrambi di questi sono legati alla cromosoma X e quindi ho 5 individui maschi con occhi bianchi e corpo normale quindi fenotipo ricombinante e 5 individui maschi corpo giallo e occhi rossi quindi un altro fenotipo ricombinanti quindi se si può utilizzare questo anche per costruire le mappe genetiche facendole costruire magari agli alunni se magari ho una classe dello scientifico piuttosto che del linguistico in cui abbiamo molte meno ore rispetto di scienze quindi diciamo è una una simulazione che ci permette di effettuare esperimenti sia sui caratteri legati al sesso sia per la costruzione di mappe genomiche grazie 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 a tutti